Primo pensiero, chiudere la porta. Il nuovo Bari di De Laurenti se scala, parte subito dalla difesa e lo fa con un trittico d'esperienza. Mattare e Cacioli sono a Roma da lunedì, mentre è arrivato nelle scorse ore anche Roberto Mauro Antonio. L'estremo difensore ex Fidelisandria, classe 1981, ha raggiunto quella che sarà la sua nuova squadra, pronto a dare il suo contributo alla causa, a prescindere dalla categoria. Si allena e allena Giacinto Zinfollino, portiere classe 2001, aggregato in quello che possiamo definire il Laboratorio di Roma, che attende l'arrivo degli acquisti di spessore. Mauro Antonio sarà tesserato e, stando ad alcune indiscrezioni, potrebbe anche ricoprire il ruolo di preparatore dei portieri. Il consulente di mercato Giuseppe Pompiglio ha fatto capire in conferenza stampa che, in caso di Serie D, si punterà su un estremo difensore under, ma la dirigenza bianco-rossa, ha voluto affidarsi anche ad un elemento che rappresenta una sicurezza e che conosce bene la città. A Bari, dove è nato 37 anni fa, Mauro Antonio ha giocato nel settore giovanile fino al 1999 e poi ha raccolto soddisfazione all'Ocorotondo e Martina, dove ha vinto due campionati di fila, giungendo fino in C1. Poi tanta esperienza da secondo in B e da primo in C1, con le ultime tre stagioni, disputate tra Acra, Castaranto e Fidelisandria, dove ha conquistato la salvezza. Se sarà Serie D potrebbe far da Chioccia a Marfella, 19enne estremo difensore del Napoli, che il campionato l'ha già vinto l'anno scorso con la maglia della Vispesaro, un punto fermo da cui ripartire in un ritiro che vuole essere come la sua porta, chiuso a doppia mandata.